Buonasera, benvenuti a tutti. Ho iniziato la registrazione, quindi se rimanete nella riunione, accettate automaticamente che la registrazione venga effettuata. Siamo al secondo appuntamento di questo minicorso per principianti e amanti di Wikidata. Oggi è un'ora pratica, quindi la farò più corta possibile. L'unica cosa che devo dire prima di passare la parola a Claudio è che abbiamo pensato che essendo un laboratorio questo è meno formale e quindi vi interveniamo, vi invitiamo a intervenire direttamente anche con l'uso del microfono e della telecamera per fare eventuali domande a Claudio. Alcuni di noi cercheranno di supportarlo per quanto possibile nella risposta, ma comunque è molto informale, quindi intervenite pure perché lo scopo è proprio quello di darvi la possibilità di capire bene tutti. Passo la parola a Claudio. Buonasera a tutti, io sono Claudio Forziati, sono un bibliotecario, lavoro all'Università degli Studi di Napoli e insomma in questa occasione, come diceva Carlo, sarò con voi per fare un incontro di tipo pratico, quindi cercare di essere il più breve possibile. Innanzitutto appunto questo è il secondo incontro del gruppo Wikidata Perimab ed è appunto un incontro diciamo per principianti, nel senso che nel nostro dialogo diciamo abbiamo pensato di fare un incontro preliminare di tipo pratico in cui la maggior parte del lavoro viene svolta manualmente. Perché dico questa cosa? Perché come vi renderete conto poi nei prossimi incontri tantissime operazioni su Wikidata si possono fare attraverso dei tool che la stessa comunità, diciamo, degli editori di Wikidata crea. nella, diciamo, io personalmente penso che comunque cominciare usando Wikidata e facendo gli edit manuali serve moltissimo per capire meglio come funziona questo strumento, per cui ho preparato per voi una serie di esercizi che fra poco vi farò vedere e come diceva Carlo, per qualsiasi dubbio nello svolgimento di questi esercizi ovviamente fate delle domande a voce e in ogni caso se fra questi non ce n'è nessuno che vi interessa e avete già delle attività in corso su Wikidata, siete comunque invitati a svolgere le vostre attività normalmente, insomma, quindi partecipando con una parte pratica che riguarda dei vostri, dei vostri progetti. Intanto comincio a mettere il link nella chat al pad dove sono questi esercizi. È un pad pubblico quindi dovreste poter accedere tutti quanti. Intanto poi comincio a condividervi anche lo schermo giusto per farvi vedere come accedere al al pad partendo invece dalla pagina su Wikidata del nostro del nostro gruppo che avete visto nello scorso incontro. Allora non so se riuscite a vedere lo schermo. Allora questa è la pagina iniziale, diciamo la pagina in cui presentiamo il gruppo. Se andate nell'indice e cliccate su incontri di formazione vedete che c'è un altro link ad una sottopagina e da qui vedete oltre a esserci il calendario per i prossimi incontri c'è anche un link a questo pad. Cliccando su esercizi ci arrivate. Nel pad ci sono all'inizio in test al pad ci sono delle istruzioni. Uno riguarda l'outreach dashboard Wikimedia. Che cos'è l'outreach dashboard? È un diciamo una piattaforma che serve fondamentalmente a creare delle campagne, quindi degli incontri, a tracciare diciamo quello che succede in degli incontri pratici, quindi che siano i famosi editaton che facciamo spesso su Wikipedia o altre occasioni all'interno del mondo dei progetti Wikimedia e serve sostanzialmente a vedere, a creare diciamo delle statistiche e a vedere quali sono gli edit dei partecipanti a quella particolare, a quel particolare incontro. Quindi vi invito a andare sulla outreach dashboard, a fare login con il vostro account che dovreste aver creato tutti e cliccare in basso a destra su partecipa al programma in modo che possiamo utilizzare questo strumento molto funzionale per tracciare tutti gli edit che vengono fatti nel corso di questa working hour. Se vi chiede un codice di accesso, il codice di accesso è quello che vedete qui evidenziato. È preferibile, lo dico anche per poter usare più facilmente questo pad, scrivere anche il vostro nome, la vostra affiliazione e il vostro username diciamo all'interno dei progetti Wikimedia anche nell'elenco. Vedo che lo state facendo in molti. Perché è utile questa cosa? Perché negli esercizi che trovate dopo l'elenco puntato, vedete vicino ad ogni esercizio c'è un se ne occupa, se ne occupa, se ne occupa. Serve semplicemente in questo caso a non accavallarci. Molti di questi esercizi sono una trentina in tutto, alcuni molto semplici, altri un poco più complessi che richiedono diversi minuti diciamo per essere svolti, possono essere fatti anche da più persone, in particolare quelli che puntano, come questi vedete, a delle query, a dei risultati di query o quelli che puntano a degli elenchi su, ad esempio quelli sotto periodici, sotto diciamo questo titolo periodici, a dei fogli di calcolo dove c'è un elenco di elementi di Wikidata su cui intervenire. Quindi il pad servirà sostanzialmente a fare questi esercizi che vi suggeriamo. Ora, di base, la maggior parte di questi esercizi non riguardano la creazione di nuovi elementi. Questo perché abbiamo pensato che creare massivamente un grosso nucleo di elementi poteva essere complicato anche da tracciare. Quindi è perché poi in generale una delle attività che si fa maggiormente insomma nei progetti Wikimedia, questo l'avrete visto se per caso vi è mai capitato di andare nel portale comunità, per esempio di Wikipedia, quello che viene suggerito è non cominciare, diciamo, sparati subito a creare nuove voci, per esempio in quel caso, ma aiutare la comunità a fare manutenzione di quello che già c'è. È una buona pratica e serve a prendere confidenza con le piattaforme. Ora, io nel frattempo che voi vi iscrivete nel pad, visto che comunque un paio di nuovi elementi da creare ci sono anche tra gli esercizi, vi farei vedere come si crea un nuovo elemento in Wikidata. Non so se qualcuno di voi l'ha già fatto, ma diciamo che non è un'operazione molto complessa. Allora, scelgo fra quelli suggeriti, utilizzando una fonte nota a chi fa il bibliotecario, il dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari italiani del XX secolo. Per creare un nuovo elemento su Wikidata basta semplicemente cliccare... Allora, vi dico anche un'altra cosa, vi premetto anche un'altra cosa. Vedete dalla mia condivisione dello schermo che la skin, diciamo, l'interfaccia di Wikidata è un po' diversa da quella che avete voi. Quindi, non c'è niente di particolarmente esoterico in questo. Semplicemente nelle preferenze è possibile scegliere una diversa visualizzazione. Non vi dico molto di più perché le preferenze e altre, non solo le preferenze di base, diciamo quelle di default di Wikidata, ma anche la personalizzazione della vostra interfaccia con l'uso di gadget che vengono creati all'interno della comunità è l'argomento della prossima riunione, per cui non vi svelo molto. In realtà appunto questa interfaccia che vedete dalla mia condivisione è un'interfaccia un po' storica, nel senso che è quella, qualcuno di voi se lo ricorderà, si chiama Monobook ed è quella, diciamo, storica di Wikipedia, prima che arrivasse quella attualmente, diciamo, di default. Allora, la prima cosa per creare un elemento. Prima di qualsiasi cosa devo verificare che quell'elemento non esista già. Questo è una buona pratica per evitare di creare dei duplicati. Ora, creare dei duplicati sicuramente non è un'operazione, diciamo, che ci impedisce poi di lavorare su Wikidata, però sicuramente non facciamo buon uso della piattaforma se creiamo un elemento, come in qualsiasi database del resto, se creiamo un duplicato di un elemento già esistente. Quindi, che cosa faccio? Effettuo una ricerca. La ricerca in Monobook, quindi nella mia interfaccia, avviene in basso a sinistra. Normalmente voi cercate in alto a destra, sotto il vostro username. Allora, già posso vedere che mettendo nome e cognome della persona di cui sto creando l'elemento, non esce niente. Per sicurezza faccio anche una ricerca sul testo per vedere se è contenuto in un, per esempio, in un altro titolo, se per caso posso aver fatto degli errori o messo qualcosa nella ricerca, vedo che esiste, manco a farlo apposta, un articolo pubblicato in Biblioteche Oggi dedicato al soggetto di cui creerò l'elemento. Una volta che mi sono assicurato che appunto l'elemento non esiste, clicco semplicemente su Crea un nuovo elemento. Questa è la, è quello che mi si, che mi si apre. Come vedete, diciamo, collegandosi anche a quello che diceva Camillo l'altra volta, gli elementi per creare, cioè i dati per creare un nuovo elemento sono molto, molto essenziali. La prima cosa è la label. Di default, diciamo, quando creo un nuovo elemento, la lingua dell'etichetta, della label che mi viene presentata è quella della lingua che ho scelto, ok? Però posso da questa finestra cambiarla senza nessun tipo di problema. L'etichetta ovviamente corrisponde, diciamo, alla versione più usata, più in uso per quella tipologia, per quella persona o quell'oggetto o quel concetto che sto per creare. per la descrizione ci aiuta eventualmente a disambiguare. Quindi ne uso una abbastanza minimale, diciamo, specificando semplicemente qual è la sua, diciamo, per quale attività viene conosciuto. è conosciuto. Allora, clicco su Crea e come vedete viene assegnato a questo nuovo elemento un ID che è univoco. Anche in questo caso, vedete, nella creazione dell'elemento ci avrete fatto caso, notate alcune cose che normalmente non, se non avete attivato alcuni dei gadget, diciamo, che vedrete nel prossimo incontro, non avrete nella vostra visualizzazione. Questo è una cosa che, diciamo, si impara con il tempo con Wikidata, cioè nel senso che lavorandoci si capisce che ci sono alcuni oggetti, alcuni gadget che ti servono a lavorare meglio, più velocemente, a verificare più velocemente le informazioni, ad essere più sicuro di quello che stai facendo. Quindi, in questo caso, io ho semplicemente aggiunto un'etichetta in italiano. Posso eventualmente, già in questa fase, aggiungere l'etichetta in altre lingue. scelgo l'inglese, ad esempio, scelgo il francese. Come vedete, a me appaiono, o scelgo il tedesco, appaiono, appunto, così come per voi, altre possibilità immediate, diciamo, di aggiunta di etichette e dipendono dalle lingue che io ho indicato nella mia pagina utente. Non so se riuscite a vederle, sono sulla destra. Vedete, ho messo italiano, inglese, napoletano, corso, francese, spagnolo, eccetera. Questo perché in questa comunità è molto diffusa anche l'abitudine di lavorare in lingue regionali, tant'è che esistono diversi progetti dedicate a queste lingue regionali. Ad esempio, uno dei nati più recenti è la versione in napoletano di Wikisource. Wikisource è una biblioteca digitale di materiali in pubblico dominio e che si sta arricchendo, benché, vabbè, non tantissimi utenti, insomma, si sta arricchendo di molti materiali, principalmente del 700 e dell'800 napoletano. Allora, passerei a questo punto ad aggiungere delle dichiarazioni. La prima dichiarazione è dire di cosa ci stiamo occupando. Nel caso del nostro Eugenio Pintore ci stiamo occupando di un umano, ok? Quindi la prima dichiarazione che vado a pubblicare è istanza di umano. Possiamo con certo grado di certezza dire che è un essere umano di sesso maschile e poi comincio a utilizzare la mia fonte, se riesco a... perché c'è la barra di zoom che non mi riesce a far utilizzare molto la mia fonte, però, allora, se riesco a trovare il pad... Ok, sono riuscito a nasconderli in modo da ritornare nel mio pad. So dalla mia fonte il luogo di nascita, il luogo di morte, la data di nascita e la data di morte. E li vado a inserire in Wikidata. La prima cosa da fare, appunto, è aggiungere dichiarazione. Allora, e vediamo il comune di Bonovra in provincia di Sassari. A questo punto conviene, per questo tipo di dichiarazioni, e infatti mi avvisa subito, aggiungere almeno un riferimento, cioè qual è la mia fonte? Dove ho preso le informazioni. Ok? La fonte dell'affermazione, in questo caso, è il dizionario bio bibliografico dei bibliotecari italiani, che esiste come elemento su Wikidata. In più, a mio avviso, conviene aggiungere sempre anche la data di consultazione, quindi il 13 gennaio 2021. Ok? E vado a salvare la mia... Posso eventualmente aggiungere anche ulteriori informazioni, per esempio... No? La urla di riferimento. Sempre, se riesco a... Ok? Clicco su Pubblica, e quindi vedete che il segnale, diciamo, di violazione, insomma, che appariva prima è scomparso, perché ho aggiunto esattamente quello che prevedeva questo tipo di proprietà, quindi un riferimento alla mia affermazione. Continuo con la data di nascita, che è il 19 novembre 1956. Allo stesso modo, come nel caso precedente, aggiungerò un riferimento, proprio perché lo prevede, diciamo, questa proprietà, l'aggiunta di informazioni per questa proprietà, consultato il 13 gennaio, eccetera. Ok. E clicco su Pubblica. Continuo ad aggiungere informazioni alla mia fonte. Luogo di morte. Allora, dovrebbe essere, sì, dovrebbe essere Gassino Toninese. A limite possiamo andarlo anche a verificare, semplicemente in un'altra... Ok, Comune Italiano. Provincia di Torino. Ok, quindi ci siamo. Allo stesso modo... Aggiungo i riferimenti. Ora, queste operazioni fatte manualmente vi sembrano un attimo, diciamo, ripetitive, però, probabilmente, appunto, in questa fase, come vi dicevo, è utile riuscire a capire che cosa costituisce, ad esempio, appunto, una violazione di vincolo di un database, del database, oppure, appunto, quale sono le, diciamo, i vincoli che ogni singola proprietà ha quando l'andate ad aggiungere, vedendoli mano a mano. Quello che imparerete utilizzando i gadget è a predisporre, diciamo, un'emissione, alcuni gadget almeno, a predisporre un'emissione più massiva, quindi di una grande quantità di dati, una media quantità di dati, predisponendo ogni singolo dato che inserite, già pensando a quali sono i vincoli di quella proprietà. O comunque, questo dovrebbe essere, insomma, un po' la logica. Nulla vi vieta, tranne in alcuni casi... Ok, ho messo prima l'uomo di morte, e quindi mi dice che devo mettere data di morte. Ok. Nulla vieta, come avete potuto vedere, di inserire comunque le informazioni e poi di, diciamo, perfezionarle in un secondo momento. Questo, in generale, chiaramente aiuta ad una migliore qualità, insomma, delle informazioni che sono in Wikidata. Più sono precise, più sono, diciamo, complete, e più, soprattutto, appunto, rispondono a dei vincoli che le singole proprietà hanno, rispondo correttamente a dei vincoli e le singole proprietà hanno, rispetto all'intera base di conoscenza, migliore sarà la qualità di questi dati. Considerate che, appunto, Wikidata è una piattaforma, diciamo, cross-domain, quindi non è dedicata ad una specifica area del sapere, della conoscenza. Quindi, in teoria, qualsiasi, e lo potete vedere abbastanza facilmente, non solo dai numeri, ma da quello facendo delle ricerche random su quello che contiene, di base, qualsiasi campo del sapere può interfacciarsi, diciamo, con Wikidata, interagire, rendere interoperabili le proprie informazioni con Wikidata, proprio grazie a questa grande trasversalità. Trasversalità che però ha bisogno, appunto, di informazioni quanto più corrette possibile. Io, insomma, ho cominciato a inserire una serie di informazioni. Direi che se non avete ancora cominciato con gli esercizi nel pad, sarebbe il caso di farlo per chi è interessato. Non ci sono, diciamo, vincoli per nessuno, quindi cominciate a lavorarci. Io sono qui per qualsiasi tipo di domanda. Intanto, diciamo, il mio compito è portare a termine l'inserimento di, diciamo, delle informazioni che ho per questo elemento che ho creato. Se vi va, potete, appunto, continuare a vedere quello che inserisco oppure, appunto, fare domande su quello che abbiamo detto fino a ora o su qualcuno degli esercizi che sono nel pad o su qualcuno dei lavori che state svolgendo su Wikidata. Io sono qui, quindi mi ziptisco dopo questo. Scusa, Claudio, mentre ti mettevi questi elementi di Eugenio Pintore, io sono andata a vedere se la voce Eugenio Pintore c'era in Wikipedia. Allora, potresti, e non c'è, potresti dirmi, se ci fosse stata, questi elementi strutturati, anche pochi, insomma, tipo data di nascita, a parte il nome, eccetera, se fosse stata su Wikipedia, sarebbe stato un popolamento automatico in Wikidata, poi eventualmente raffinabile dal bibliotecario, o no? Ci puoi dire questo rapporto? Esistono, esiste un tool che ti consente di esportare le informazioni da Wikipedia a Wikidata. Questo sì, si può fare e poi sono informazioni su cui puoi ritornare. Diciamo, anzi, in realtà appunto, quando crei una nuova una nuova voce su Wikipedia, ammesso che esista già un elemento su Wikidata, c'è la possibilità di collegarli attraverso uno strumento di Wikipedia. Ad esempio, se già capita a volte, cioè che l'elemento di Wikidata preesista a Wikipedia, per un motivo molto semplice, perché, diciamo, chiaramente essendo un'encicopedia Wikipedia, le norme di rilevanza sono molto più stringenti, mentre non che non ce ne siano, diciamo, dentro Wikidata, ma sicuramente, diciamo, non sono così ferre, diciamo, non sono così stringenti, insomma. Quindi sì, per rispondere alla tua domanda, sì, esiste un modo per popolare partendo da Wikipedia. Bene, grazie. Claudio, scusa se ti interrompo, potresti far vedere come ci si fa a iscrivere alla piattaforma per registrarsi, per registrare le attività che si fanno, perché si sono registrate solo tre persone per adesso, quindi forse non è chiaro. Così immediatamente. Anche il link che c'è all'inizio del pad. Sì, allora, allora, un attimo solo, ok. Ok. Allora, dovrebbe essere così, nel senso che io chiaramente non vedrò, essendo uno dei tutor, diciamo, della giornata, non vedrò esattamente quello che vedete voi. Allora, dal link arrivate su questa pagina. se non siete, se non siete loggati, allora, vediamo che succede da sloggati, non so se mi fa sloggare anche da altre. Ok. Allora, la prima cosa da fare è accedere con il proprio account. Una volta che avete fatto accesso, qui in basso a destra, su questa pagina, c'è partecipa al programma. Cliccandoci sopra, vi uscirà questa, questa finestrella, in cui dovete mettere questo codice qua. Ok. Io chiaramente, il mio problema è che se accedo, chiaramente riconosce il mio account. quando fate accedere, accedi, vi uscirà questa pagina che avete visto per un momento, consenti e vi porta di nuovo sulla pagina. Ok. Ora, io non posso fare partecipare al programma, come vedete, perché ho altre funzioni nella pagina, però, qui dove c'è scritto azioni, troverete questo, questo bottone, diciamo, partecipare al programma. la dashboard consente, appunto, sì, vedo che c'è qualcuno che si è già iscritto, consente di monitorare che cosa, che cosa stiamo, stiamo facendo in questa, in questa occasione. Ok. Caricamenti riguarda, ad esempio, un caricamento, se in questa occasione, per esempio, caricassero le foto su Commons, che è un'altra piattaforma Wikimedia di cui avete sentito parlare nella riunione precedente. Ci sono dubbi su questo? Ok. Allora, domanda. Sì. Scusami. Sì, io mi vorrei iscrivere a vedo l'esercizio botanici con identificativo share catalog di un autore senza etichetta in italiano. Sì. Benissimo, io ho cliccato sul link e mi si è aperto quindi un elenco di... Sì, di soli. Sì, ora non lo ritrovo, comunque... Sì, eccolo. Un elenco di tutti questi botanici che... a cui manca questa etichetta. Ma... Sì. Quale etichetta devo? Devo cercare il loro nome in italiano, praticamente. Esattamente. Senza l'etichetta in italiano, sì. Sì, aggiungere la loro... la loro... Cioè, immagino che tu abbia impostato italiano come... Quindi vedi, diciamo, la lingua italiana. Quindi, al posto di... In corrispondenza di lingua, nella seconda colonna c'è etichetta, clicchi su modifica e metti l'etichetta in italiano. Allora, spesso, diciamo, corrisponde alle altre, diciamo, per cui... Non lo so, prendiamo... No? Quindi, materialmente... Certo, per esempio, in questo caso, noi non... Per esempio, abbiamo un alias, il secondo nome puntato difficilmente viene utilizzato in italiano, però possiamo, possiamo, ad esempio, metterla in questo modo. No? Sì. Ok. Ho capito. Ok. Ok. Va bene. Grazie. Figurati. Se ricordi di mettere sempre il tuo nome nell'esercizio, così sappiamo che ci stai lavorando. Ok. se c'è qualcuno che vuole anche... gli va anche dimostrare, diciamo, un lavoro che sta facendo su Wikidata, è il benvenuto. Io... A me fa piacere. quindi è sempre come dire, costruttivo vedere le esperienze che gli altri fanno in qualche modo ci aiuta a a espandere, diciamo, le nostre le nostre capacità di interagire e magari appunto ci possiamo ci possiamo dare dei consigli. Quindi se avete qualcosa da mostrare, fatelo. Una working hour è un'ottima occasione per fare questa cosa. Salve, io se volete vorrei condividere lo schermo che mi viene un dubbio su quello che sto lavorando. Ok, sì. Veronica, buongiorno. Buongiorno. Un attimo solo volevo capire come interrompere la condivisione. Ok. Ok, Veronica. Arrivo. Allora. come host non ho abilitato lo sharing quindi mi dovrei abilitare. Te l'ho abilitato in questo momento? Dovrebbe essere... Sei Veronica Santoni? Sì, esatto. Ti è arrivata la notifica? Si dice ancora che non può che è disabilitato. Adesso dovrebbe funzionare. Ok, credo che stia caricando. No. Un secondo solo. Allora. niente, ancora mi sono disabilitata. Ma comunque intanto dico qual è la mia preoccupazione. Allora, io sto aggiungendo un nuovo record di questo Carlos Abaitua. Io lo sto aggiungendo in italiano. però è un autore spagnolo. Ora diciamo dovrei un attimo parlare un po' meglio, però insomma. Aspetta, ricomincio a condividere in modo da riprendere da prendere un attimo lo... Sì, sì, sì. Ok? Ok. Ok. Stai parlando di questo qua. Esatto, esatto. Hai già pubblicato? Cioè, hai già... ho già pubblicato, sì, ho già messo la prima proprietà di proprietà. Ho controllato che non c'era, non c'è, quindi... Ok. Ho inserito un po' di cose. Veronica, adesso ti dovrei aver dato la possibilità di condividere se vuoi, se vuoi provare di nuovo. Ok, adesso però... Aspetta, aspetta, non è. Qualcuno deve smettere di sharing, se no io non posso. Vai. Scusate. Allora, io metto lo screen così vedete tutto. A un certo punto si vedrà la mia posta, vabbè, pazienza. Eccoci. Allora, io sto di qua e ho messo le lingue. Io ne ho messe, vabbè, queste due, insomma, mi sono comparse. Ho messo le prime cose cose, quindi c'è un essere umano che è maschio. A me però veniva un altro dubbio, cioè nel senso l'autore è presemente insomma non italiano, ma io sto inserendo tutti quanti i dati in italiano. Poi il passaggio alle altre lingue è un automatico, giusto? Come ci diceva l'altra volta Camillo. Sì, nel senso, vabbè, io vedo che stai lavorando in inglese, cioè nel senso stai usando... Sì, perché io ho tutto quanto in inglese, io ho tutto in inglese, quindi automatico ho tutto in inglese. Perfetto, perfetto, non ti vincola nessuno, diciamo, a scegliere l'italiano assolutamente. Certo. Diciamo, allora, la domanda qual è? Cioè il discorso delle etichette o il fatto di... o le informazioni che stai mettendo? Sì, sì, sì. Sì, allora, quelle tre che riescono di default sono quelle che hai nel tuo Babel, diciamo, in quel coso che hai messo nella tua pagina utente. Semplicemente. Ok, ok. Niente, allora, quando raccontimo, non c'era niente di troppo particolare? Io direi appunto, più che autore, questo è un po' il discorso di, diciamo, appunto, di quando crei un nuovo elemento di analizzare le fonti che hai. Forse puoi raffinarlo, diciamo, che probabilmente da quello che ricordo, correggimi se sbaglio, perché tu hai probabilmente le fonti aperte, è un teologo. Ok. Chi era andata? Su Library of Congress dove era? Oddio. Forse, sì, su Google Identities, probabilmente. in ogni caso, appunto, non sono moltissime informazioni, diciamo, però serviva più che altro oltre, diciamo, ad utilizzare queste fonti come per sapere, appunto, eventualmente nazionalità e altre piccole cose per usare gli identificativi, per aggiungere degli identificativi di base. Quindi, questo era un po' questo elemento. Magari, magari, proprio per Pintore che ho creato poco fa, possiamo vedere come aggiungere degli identificativi che, appunto, sono normali dichiarazioni e dove, una volta che le ho aggiunte, si piazzano nel momento in cui le ho aggiunte. Ok? Dove le visualizzi di default, diciamo, in Wikidata. Ok? quindi rifaccio un attimo la condivisione dello schermo. Ok. Allora, ad esempio, la mia fonte per Pintore, abbiamo detto che è il dizionario biobibliografico dei bibliotecari italiani. italiani. Questo 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 dizionario online come identificativo eccolo qua. grazie al nostro Camillo adesso ha anche una proprietà su Wikidata per cui fatto salvo che se inserisco manualmente o allora diciamo che se inserisco male diciamo un valore identificativo Wikidata se ne accorge immediatamente quindi me lo dice mi dice che è formattato male una delle cose che posso fare specialmente nelle prime volte è andarmi a vedere la proprietà cioè intanto pubblico questa informazione nella proprietà che come vi diceva Camillo l'altra volta ha la stessa forma sostanzialmente di un di un elemento di Wikidata di un elemento di un'entità diciamo mi dice no mi dà la possibilità di vedere come è formato l'identificativo ok con un po' di fantasia riesco a vederlo pure qua in base no cioè quella parte che io vado a inserire come come parte che identifica diciamo la persona o l'oggetto o il concetto che che vado a prendere diciamo dalla mia fonte è questa qua e ha questa forma qua vorrei fare una domanda io allora mi sto occupando in pratica degli editori editori che non hanno diciamo l'etichetta in italiano e mi sono imbattuto in treves ora in realtà ho visto che l'elemento fratelli esiste già l'elemento fratelli treves che è diverso da treves ecco ora in questo caso andrebbero raggruppati probabilmente sì se si tratta dello stesso probabilmente sì se si tratta dello stesso cioè richiede comunque un'analisi dei due elementi per vedere a che cosa sono collegati però è molto probabile che si debba fare un merge diciamo dei due un merge non in questo caso perché fratelli treves e treves credo che siano la stessa entità insomma che è l'editore milanese è molto probabile molto probabile allora tenete presente una cosa che non allora queste liste generate da query possono avere delle particolarità cioè non necessariamente specialmente in una fase iniziale andiamo a modificare effettivamente tutto cioè a ad intervenire su tutti gli item che la query che la query mi mostra cioè possiamo farne una parte benissimo e poi ritornare su quelli che sono un poco più complessi perché è una cosa normale no diciamo ce ne sono alcuni che hanno maggiori particolarità credo che questo caso di treves possa essere uno di questi cioè nel senso tra l'altro ho visto scusa che la descrizione in fratelli treves la descrizione è casa editrice mentre di là si richiederebbe mettere treves editore come nella descrizione voglio vederlo un attimo sì che è casa editrice italiana appunto Claudio se posso perché ho guardato sono Elena sì sentite ho guardato un attimo il sito in realtà la casa editrice cambia nome nel tempo si chiama a volte treves a volte fratelli treves quindi potrebbe essere corretto fare un elemento come casa editrice con delle etichette che variano a seconda dell'intervallo temporale dimmi se è giusto oppure fare due etichette no allora in questo caso secondo me sì cioè un po' come un po' quando eh cataloghi diciamo nel senso che eh utilizzi un po' la forma la forma normalizzata e poi eh puoi utilizzare gli alias come in questo caso del resto e anche conosciuto come fosse stata una persona ci sarebbero stati gli alias no? esattamente il concetto è quello esatto esatto specificando poi le date di validità di ciascun alias diciamo sì si può si può fare anche questo sicuramente eh si può fare anche questo sicuramente non so sinceramente qual è la proprietà adatta a dire questa cosa però credo che si che si possa fare insomma cioè nel senso che eh vedete abbastanza stiamo parlando dello stesso item innanzitutto sì io ho visto questo di fratelli treves ok no perciò dicevo volevo capire se c'era un altro treves come elemento che non che non che andava in qualche modo per cui andava fatto un merge quindi stiamo vedendo questo qua ehm allora come vedete come vedete ad esempio ci sono delle proprietà molto ricche no tipo chi è il gestore direttore eh e c'è una lunga lista diciamo di di direttori dell'editore cioè immagino che ci sia una una proprietà anche per dire eh credo dovrebbe essere preceduto da eh come proprietà e poi e poi l'item corrispondente come come elemento credo dovrebbe essere quello c'era qualcun altro che voleva intervenire? no non lo sono segnato ok mi sente? mi sente? adesso sì buonasera mi scusi io sono mi sono introdotta un po' in ritardo e forse ho perso qualche pezzo sto lavorando all'inserimento degli id di acnp in alcuni in alcune voci di riviste scientifiche ho effettuato delle prime modifiche sul global knowledge eccetera eccetera ma non le vedo in che senso? nel senso che ho aggiunto l'id di acnp sono uscita da quella voce per trattarne un'altra e tornando indietro non vedo le modifiche che avevo apportato voglio vedere un attimo allora la prima che ha modificato è global knowledge memory and communication giusto? esatto esatto non le vedo sul mio profilo poi magari sto modificando delle cose sul profilo sbagliato non lo so sulla pagina sbagliata ho perso un po' di passaggi purtroppo sono arrivata a 5 minuti ritardo io lo vedo io lo vedo ok mi scusi quindi forse ecco pensavo di averlo aggiunto dopo l'identificativo crossref mi scusi allora quello funziona in questo modo che diciamo vengono vengono cioè non vengono mostrati nel modo in cui li inseriamo ok hanno una sorta di rilevanza diciamo a seconda della tecnologia di elemento cioè per quanto riguarda un periodico il primo identificativo mostrato è l'ISSN ok ok scusa Claudio posso farti una domanda sono Maria Tassella ciao Maria ciao senti nell'aliases quando si inserisce un nuovo item lì dove dice aliases cosa si inserisce esattamente che non me lo ricordo già più un'altra forma del nome ah se c'è una variante esatto esatto se c'è e invece nella description perché io adesso ho l'interfaccia in inglese però la description devo mettere non so bibliotecario è come in genere non lo so pensa pensa alla creazione del record di autorità cioè è la cosa che ti serve un po' a disambiguare rispetto a una possibile omonimia ah ok se trovi un Claudio Forziati bibliotecario un Claudio Forziati falegname insomma quello nella descrizione in uno scrivi bibliotecario in un altro falegname serve a disambiguare diciamo il primo punto di disambiguazione ok grazie sì Claudio scusami c'avevo un'altra domanda sì io ora sto modificando Ugo Meinard Schichtl il secondo della lista scusami dei botanici a cui manca l'etichetta in italiano sì sì ah di share ok facendo una ricerca sì scusa facendo una ricerca ho trovato nel Wikipedia portoghese tante altre sue diciamo qualifiche architetto ingegnere botanico professore pittore austriaco pittore mi torna perché cercando si trovano facilmente dei suoi quadri stai parlando sempre del botanico sì sì del botanico sì che fa illustrazioni botaniche probabilmente anche proprio sì esatto quadrisi di piante insomma in cui raffigura piante quindi io potrei mettere nella descrizione in italiano botanico e pittore austriaco sì anche se vedo che la descrizione c'è già no? sì è quella che ho messo io sì allora sì questo questo va bene specialmente se ti rendi conto effettivamente che stiamo parlando della stessa persona come probabilmente in questo caso cioè un botanico che fa le illustrazioni per le proprie opere da solo è un caso molto o comunque diciamo sono dei casi abbastanza frequenti da quanto mi è capitato di vedere nel momento in cui ti rendi conto dalle tue fonti che effettivamente si tratta della stessa persona non c'è nessun tipo di problema in generale la disambiguazione attraverso la descrizione secondo me deve rimanere quanto più essenziale possibile quindi va bene per esempio metterci le sue due professioni la sua nazionalità potrebbe andare bene fare come spesso si fa negli autoriti mettere la data di nascita e di morte come vedi per esempio nella versione in inglese però sì rispondendo alla tua domanda va bene specialmente se ne hai evidenza sì ok le date non le ho messe perché insomma anche cioè quello poi dipende anche un po' dalle consuetudine e dall'uso nel senso che comunque la data di nascita e la data di morte ce l'hai nell'elemento come valore delle proprietà quindi non è che se ce l'hai da una fonte conviene mettere principalmente come dichiarazione nell'elemento poi magari le puoi usare anche nella descrizione va bene perfetto grazie ciao Claudio sono Elena Corradini ciao Elena ciao ben trovato io ho postato nel chat il link a Von Wolf che è nella lista degli scienziati Museo Galileo che non hanno l'etichetta in italiano e ho notato che l'etichetta allora è tedesco probabilmente la prima voce inserita era quella inglese credo che che include come prenome Theodor che però nella lingua tedesca non c'è e nella voce di Wikipedia in tedesco neppure la voce italiana come suggeriresti di farla perché Wikipedia in italiano non contiene la voce di questo la Wikipedia in italiano non contiene la voce no non c'è allora in questo caso sì dimmi quale preferisco cioè preferisco la voce tedesca allora essendo essendo lui tedesco cioè allora scusami mi sono perso un attimo perché non riuscivo a trovare la chat però ricapitoliamo un secondo di cosa stiamo parlando dell'etichetta nell'evento Wikidata l'etichetta in lingua è italiano ok no no in italiano devo mantenere l'etichetta inglese che probabilmente è stata quella creata prima allora io oppure io mi regolo di solito in questo modo vado sulle fonti che normalmente utilizzo come bibliotecario cioè vado sullo backstin e vedo qual è la la consuetudine quando proprio sono indeciso tendo diciamo a mantenere l'etichetta nell'uso nell'uso della lingua di origine questo è mi questo è però non so quanto è corretto questa cosa di verità quindi non però nel dubbio quando appunto ci sono in particolare mi capita appunto con le cose le cose dei nomi appunto asiatici dove devi applicare un sistema per trasletterare oppure quando nelle consuetudine diciamo in una lingua ci sono come dire l'abitudine a mettere più secondo i nomi puntati e quando non so come fare vado su sbn sì sì quindi consigli comunque di fare la verifica da bibliotecario insomma quindi va bene vedo che Carlo ha postato un suggerimento di inserire una forma e poi mettere l'altra nell'alias esattamente in realtà poi i nomi sono tre perché nella voce tedesca dice che si chiamava Emil Wolf sì sì infatti ho visto Emil Wolf dal 1870 quindi io avrei messo la forma più diffusa se Claudio fa scorrere quel mix and match entries for this item che la sua pagina lo vedremo la prossima volta come si fa a inserirle la forma più diffusa sembra quella con il phone la più frequente quindi io metterei quella come etichetta ma poi ci dobbiamo preoccupare relativamente poco perché basta mettere Emil Wolf e Emilie Theodoro von Wolf negli alias quindi un utente italiano che cerca una delle tre forme le trova tutte con Wolf o senza Wolf con Theodoro o senza Theodoro le trova comunque sì sì va bene quindi il meccanismo funziona benissimo da questo punto di vista e poi però suggerireste di aggiungere eventualmente negli identificativi il riferimento italiano giusto? in questo caso certo se trovi delle fonti in italiano poi meglio perché quella diciamo delle tre puoi posizionare come etichetta quella che trovi in una fonte che tu ritieni autorevole perfetto ok grazie grazie mi scusi io avrei un'altra domanda posso? per disambiguare un identificativo l'identificativo della versione online rispetto a quella cartacea di una rivista come posso fare? allora nel si aggiungono quelli che si chiamano qualificatori allora nello stesso file che ci ha aperto dove c'è l'elenco l'elenco delle riviste per esempio di ACNP credo che su quello stiamo su quello anche se ho riscontrato che alcuni titoli non sono presenti in ACNP vabbè capita insomma sì ok pensavo fosse un trucchetto no 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 vabbè una prova no no è possibile è possibilissimo ok non avete verificato che fossero presenti era una query era una query lanciata diciamo ok benissimo allora nella prima pagina io ho chiuso un attimo il pad però nella prima pagina del foglio di calcolo vedi c'è proprio un tutorial che spiega come aggiungere i qualificatori io se riesco a riprenderlo un attimo vado a cercare in caso va bene sì perché adesso non lo vedo qui nella sua ok un attimo solo che riprendo ok se lei lo riprende la seguo volentieri sì riprendo un attimo il pad sì ok ok allora eccolo qua allora qui c'è il tutorial sostanzialmente vedo se riesco a ingrandire un po' no ok allora su questa rivista ho due identificativi per acnp giusto sì esatto allora per eliminare questo punto esclamativo cioè dove mi sta dicendo che c'è una violazione diciamo del database non devo fare altro che aggiungere questo per acnp poi per esempio gli ssn e altri quindi devo aggiungere il tipo di distribuzione perché perché questo perché sostanzialmente la proprietà acnp prevede un singolo valore per ogni item quando ne aggiungo due chiaramente mi sta dicendo che stai facendo allora gli vado a specificare che ne ho c'è che questo identificativo riguarda la versione a stampa che quest'altro identificativo riguarda la pubblicazione online perfetto questo perché appunto a differenza di acnp in wikidata gli identificativi di un periodico ammesso appunto che nella versione online e nella versione a stampa siano sostanzialmente simili diciamo vengono inseriti diciamo in un'unica per un'unica come valori di un'unica proprietà in un'unica cnp abbiamo due 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 descrizioni separate diciamo due o più benissimo la ringrazio mi scusi non avevo notato il tutorial eccomi ho dubbio anche se posso fare una domanda sì allora avevo provato a ad esercitarmi sul quinto ultimo esercizio per l'inserimento di voci quello su accordi a specialist studies sugli items da creare sì ok e mi sono tolto perché effettivamente mi sono ritrovato di modo ai dubbi perché effettivamente qui è indicato come se fosse un periodico e ha anche un ISSN quindi tutto mi fa pensare è un periodico e va bene così non conoscendo nulla di questo ho provato a guardare due cose e sono ho la percezione che possa essere più che un periodico una collana ah ok e che il titolo non sia cord specialist studies on off ma on the mentisarian ah ok quindi che possa essere un qualche cosa di strano sia nell'ISSN sia in ACNP non so posso più facilmente mi sto sbagliando io però il mio punto di domanda è come faccio in questi casi allora non allora l'errore mio nel senso che io l'ho indicato diciamo come elemento da creare considerandolo un periodico perché effettivamente mi sono basato esclusivamente su ACNP però esiste anche esiste anche la possibilità di creare degli elementi che riguardano delle collane appunto perché io ho provato ad inserire il nome nella casellina in alto a destra ovviamente per verificare che non fosse già presente e copiando e incollando il nome nella casellina in alto a destra sì è risultato soltanto da quello che ho capito la citazione in è risultata una citazione e ancora anche lì non mi convinceva del tutto esatto a parte il fatto che anche lì la preposizione è diversa allora insomma tra l'altro un elemento con un titolo così insomma non è proprio e anche questo tra l'altro ha un ISBN in quel caso non un SSN sì effettivamente l'idea è che sia effettivamente una collana e non un periodico però ha un SSN indicato in ACNP sì è possibilissimo sì errore mio è una serie di monografie sì quindi può essere quasi un periodico insomma è una collana una collana sì sì è una collana è un errore mio probabilmente in ACNP la preposizione è sbagliata sul sito ufficiale poi effettivamente c'è sempre on sì la mia domanda è come faccio in questi casi io ovviamente ho detto ok mi ti rendi tra l'esercizio tanto l'esercizio non fa niente va bene così però vi rilancio una cosa non ho capito scusami ti ho perso un attimo no figuriamoci io dico mi sono cancellato dall'esercizio ho detto va bene faccio un passo indietro questa è troppo complicata per me però ecco la mia domanda è come come fare allora semplicemente bisogna trovare la cioè come dire la forma per dire che cos'è questo elemento cioè nel senso che esiste come esiste un un'istanza di che credo sia serie editoriale non mi ricordo esattamente come come la forma semplicemente non è un periodico cioè nel senso che io diciamo mi sono filato gli acnp così com'era quindi sono andato sono andato diciamo a metterlo come esercizio in questo modo ma semplicemente bisogna trovare allora per esempio collana editoriale una collana editoriale facciamolo su una una nota sì meridiani oppure sì mi è venuto no collana editoriale esattamente quindi una volta verificato che effettivamente si tratta di una collana editoriale in questo caso ho fatto piccola biblioteca delfi ok è molto minimale diciamo come descrizione probabilmente però ce ne saranno ce ne saranno a centinaia insomma di collana editoriale e vado cioè me ne guardo qualcuna insomma e vado a vedere come descriverla ok ok anche partendo da anche partendo proprio dall'elemento collana editoriale certo ok io avrò una domanda se posso sì grazie allora io sto compilando la voce su Ugo Morini il bibliotecario ok e sto aggiungendo insomma sul sito sulla pagina del dizionario biobibliografico ci sono diverse informazioni su le varie biblioteche in cui ha lavorato mi ricordo che la volta scorsa Camillo ha spiegato come si faceva ad aggiungere delle delle indicazioni alla data per renderla più sfumata nel senso per esempio dopo di o prima di però non sto ritrovando come si fa nel senso come qualificatori per esempio di una dell'attività cioè nel senso per esempio io leggo qua sul dizionario biobibliografico che non lo so almeno dal 1900 fino almeno al 1900 come codifico quel fino almeno a fino almeno a nel senso di allora da data inizio alla data di fine questo si intende no data di fine solo che la data di fine non è cioè vuol dire almeno fino al 1900 ma magari anche fino al 1902 ah quando non abbiamo una data una data certa diciamo di fine come lo descriviamo ok mi sembrava di ricordare che ci fosse una maniera con probabilmente sì Camillo tu ti ricordi qualcosa al riguardo mi pare che tu proprio allora siccome qua è già un qualificatore qualificare ulteriormente il qualificatore è complesso però se fino almeno al 1900 uno mette pacificamente 1900 o non lo mette per non essere fuorviante direi che non lo mette per non essere fuorviante oppure ci mette data di fine anziché metterci il 1900 ci può mettere tipo ventesimo secolo per stare ampio diventa molto ampio però comunque un'informazione la si dà d'accordo va bene grazie vorrei vorrei anche io fare una domanda che ho un problemino sono Cristina Silvani io mi sto occupando dell'esercizio dei professori universitari con l'esenza del datore di lavoro 15 dovrebbe essere ok il secondo innanzitutto volevo capire quando entro metto urla di riferimento inserisco l'ur che differenza c'è tra urla di riferimento e urla descritto nell'urla c'è una differenza suppongo sì si usano in modalità differente descritto nell'urla di solito è una proprietà che viene utilizzata non come come riferimento come riferimento di un'affermazione ma proprio come dichiarazione ah ok quindi devo usare urla di riferimento sì voglio giustificare ok se è una referenza diciamo e poi quando io ho ho immesso l'urla perché ho trovato solo queste notizie in wikipedia in inglese mi è comparso un punto esclamativo alla fine dell'urla un punto esclamativo allora di quale ho scritto questa dichiarazione alcuni potenziali problemi sì perché allora l'unico riferimento che abbiamo trovato è una voce di una voce di wikipedia sì no allora non è prettamente diciamo quello il modo per mettere per immettere questa informazione nel senso che possiamo dire che che la fonte della mia affermazione è wikipedia in una versione linguistica ok non non è necessario aggiungere l'urla che ci porta alla voce ah ok e come lo allora di chi stiamo parlando stiamo parlando del secondo nell'elenco Otto Friedrich August Meinardus Meinardus che io adesso probabilmente non vedo più perché abbiamo già il datore di lavoro ok Otto Friedrich August Meinardus Meinardus ecco qua archeologo e teologo tedesico lui ok nella lingua madre prenome qual era il datore di lavoro abbiamo il datore di lavoro sì ok allora generalmente allora abbiamo detto che wikipedia è in inglese no? sì che in generale dovrebbe essere anche linkato sotto fra l'altro no? ah ok non l'avevo visto sì ok vediamo se ci dà lo stesso errore anche anche aggiungendo wikipedia come come fonte dell'affermazione immagino di sì però vediamo vediamo era per tutti e due i casi giusto? ok sì comunque ce la dà come parola per fonte non dovrebbe essere uno dei seguenti quindi non se non sbaglio su questo c'è stata anche una lunga discussione cioè se usare come riferimento diciamo per per delle affermazioni una versione linguistica di wikipedia e non ricordo se era diciamo importato da importato da non fonte giusto? ok esatto ok 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 e adesso non dovrebbe darci più ok quindi stessa cosa anche un'altra cosa ho visto che l'identificativo OrkID è lì perché non negli identificativi? un attimo solo importato da lo sto facendo anche per l'altra allora qual è l'identificativo? quello OrkID se si aggiunge nei riferimenti sotto occupazione riferimenti c'è l'identificativo OrkID occupazione sotto il datore di lavoro ho visto sotto il datore di lavoro no però questo probabilmente cioè se abbiamo aggiunto stiamo parlando dell'OrkID giusto? sì ok 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 questo l'abbiamo visto forse anche prima il fatto di aggiungere un identificatore come dichiarazione in un qualsiasi momento della mia compilazione diciamo dell'elemento non inficia il fatto che poi venga messo cioè che come dire all'aggiornamento della pagina lo rivedo negli identificativi ok questo che questo che sì sì è questo non capivo perché lì e non negli identificativi se fa aggiornare la pagina lo vedrà poi ok grazie Claudio sì è possibile che caricare il documento con i task con i compiti gli esercizi sulla pagina così possiamo anche lavorarci nei prossimi giorni sì come no cioè sulla sulla pagina del gruppo sì dovrebbe essere già lì ok nella pagina incontri di formazione c'è un link agli esercizi adesso la riprendo pensavo che fosse volante eh quello poi è un po' il come si chiama il nostro l'uso dei pad diciamo spesso è così effettivamente sono pubblici però qualche volta ce le si perde è qui ok incontri di formazione e su questo esercizio e su questo link ok grazie prego ciao posso fare una domanda anch'io sono Erika sì sì certo ciao ciao Erika io come ho chiesto in chat al di là di questi esercizi che ci avete dato voi è possibile magari fare delle modifiche su altre pagine io in questi minuti ho provato a fare qualche ricerca per esempio ho trovato che mancavano dei riferimenti a pagine già esistenti in che senso riferimenti a pagine già esistenti riferimenti praticamente i dati venivano inseriti però non indicando dalla fonte per esempio nella pagina l'avevo trovato quindi è un tipo di esercizio che volendo si può fare assolutamente però voi lo potete poi vedere e quindi magari correggere e controllare che non facciamo errori o cose del genere anche se sono al di fuori chiaramente dovremmo sapere su che cosa stai lavorando diciamo per poterlo vedere questo io credo che una delle persone è iscritta all'outreach dashboard esattamente sì infatti scusami Camilla sì diciamo l'outreach dashboard avrebbe questa funzione cioè quello di monitorare diciamo gli edit che tu fai nel momento cioè diciamo nel come si dice nel periodo del del programma quindi se ti sei iscritta lì dovremmo quindi anche quelli esterni cioè non solo quelli interni che avete dato voi ma anche quelli fuori che potete verificare ok a posto sì dicevo all'inizio dicevo normalmente dovremmo sapere su che cosa su che cosa lavori per saperlo diciamo al di là del del pad insomma però la funzione dell'outreach dashboard quando funziona bene è quella quindi noi abbiamo appena creato una domanda se io trovo una pagina magari incompleta o anche magari completa voglio vedere chi l'ha chi l'ha compilata dove lo trovo? nella cronologia dell'elemento allora esiste qua in alto in generale in alto va bene in questa interfaccia un po' differente quello che vedete come come linguette diciamo nella cronologia riesce a vedere tutti gli edit che ci sono stati tutti gli edit che finiscono per bot sono in realtà edit fatti appunto da robot informatici quindi da bot sono appunto non utenti umani perfetto grazie prego tra l'altro una cosa interessante e questo riguarda questo è un po' la base di tutti i wiki quindi non solo i wiki data non solo dei wiki diciamo della wiki media foundation ma di tutti i wiki il fatto la possibilità di confrontare nella cronologia le diverse versioni selezionandole ok ad esempio e diciamo vabbè in questo caso possiamo anche scorrere all'indietro per vedere per vedere tutti i vari edit ah bene interessante grazie adesso provo a vedere grazie mille scusa posso intervenire certo allora io mi chiamo Martina e sinceramente ho provato visto che tanti prendevano già diciamo punto riferimento quello che avevi dato io ho provato invece effettivamente a creare una cosa proprio extra ai suggerimenti che avevi dato proprio perché conoscendo bene dove poter lavorare ho pensato che fosse più idoneo a imparare quindi per ricapitolare ho creato praticamente l'elemento del museo diffuso dell'Empolese Val d'Elsa che ho visto che non c'era il problema è che mi sono un po' fermata non so se può andare bene quello che per ora ho inserito mi sono fermata all'indirizzo di posta elettronica cose semplici perché io proprio sono base 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 devo essere sincera e quando vado a creare pubblica mi dice che non è possibile salvare credo che la forma dell'indirizzo mail sia mail tu due punti indirizzo mail ah ecco vediamolo su un museo due punti sì esatto però mi dà il punto esclamativo devo se ci clicchi sopra ti dice qual è il vincolo di riferimento necessario cioè vuole avere un riferimento da cui io ho preso questa informazione in pratica è proprio così quindi può essere una url di riferimento quindi aggiunge un riferimento ok infatti ora è sparito per cortesia non è che potresti guardare giusto per capire se sto facendo bene ovviamente sono le prime armi altri vedo che sono molto più ferrati di me ecco no ma figurati queste working hours servono proprio a questo a perdere un po' di diciamo a prendere un po' di confidenza perciò dicevo all'inizio quando cominci a mettere le mani dentro di data lavorare manualmente è la cosa migliore perché ti rendi conto di tante piccole cosette insomma quindi se mi ripeti però il museo diffuso in polese val d'elza ho chiamato semplicemente anche Mudev Mudev l'hai messo come alias Mudev come alias sì ok ovviamente ho messo tante cose base ecco eh ci sono varie cose di base insomma quindi mi sembra sì sito web ufficiale ecco per esempio questa questo questo qualificatore qua interessante ci sono alcune proprietà che vi richiedono alcuni di specificare in quel in che lingua è espressa diciamo il contenuto di quel di quel in questo caso di questo sito web immagino che sia in italiano giusto? sì sì in italiano però ha la possibilità anche dell'inglese ovviamente ok perché c'è anche in lingua inglese ok allora lingua dell'opera è del nome in questo caso lo mettiamo come qualificatore aspetta ritorno un attimo per ok clicco su modifica aggiungi qualificatore lingua dell'opera il nome italiano ok e ora dovrebbe sparire ok un'altra informazione nel caso in cui visto che è un sistema museale volessi citare altri musei che sono all'interno come qual è qualcosa ecco come posso fare allora il modo diciamo per citare diciamo i vari allora si tratta prima cosa si tratta di collezioni o di musei che hanno una loro autonomia sì sono dei musei che poi hanno la loro autonomia anche volendo cioè sono compresi in tutto cioè hanno due opportunità ovvero di interagire con il pubblico a livello di biglietto unico ma anche uno che volendo può andare e visitare solo il singolo museo ok allora semplicemente va creato un elemento per ognuno di questi musei ok ma siccome per esempio quello di siccome lavoro nella biblioteca di Cerreto Guidi che è una provincia di Firenze 18.4 ma siccome il laboratorio sono anche sento un po' di voci praticamente il il museo lì al Cerreto fa parte di questo diciamo questo sistema museale visto che già c'è il MUMELOC che sarebbe il museo della memoria locale di Cerreto in modo da poterlo inserire in questa scheda qui come fa parte di ecco sì esattamente e come potrei fare giusto per capire esiste già un elemento che riguarda questo museo di Cerreto sì ok ho visto che è già stato creato non so da chi è allora si chiama quindi museo di sarebbe MUMELOC comunque museo della memoria locale ok usare la memoria locale allora dovrebbe essere però non ho controllato e appunto anche in questo caso conviene sempre poi raffrontarsi anche con con altri elementi che hanno la stessa come dire la stessa le stesse caratteristiche no quindi andarsi a vedere i vari un elemento appunto di un sistema museale però ad esempio dovrebbe essere fa parte di parte di ho capito bene fa parte del MUDEV giusto? sì sì ok probabilmente mi chiederà una fonte in pratica che posso aggiungere anche che posso aggiungere già ora ah ok cioè stesso nel momento in cui io vado a inserire queste dichiarazioni posso aggiungere un qualificatore una fonte ad esempio un qualificatore può essere la data di inizio in questo caso del come si dice da quando ha iniziato a far parte ha cominciato a far parte del sistema museale può essere una per esempio appunto il riferimento può essere la mia fonte il sito web ufficiale credo che sia la cosa migliore uno dei possibili dei possibili delle possibili violazioni che mi potrebbe indicare in questo caso lo vedremo è che c'è bisogno di una proprietà reciproca cioè della reciprocità nell'altro elemento no visto che cioè del fatto che il Mudev fa parte del dell'altro del sistema museale ok quindi deve essere citato il Mumelok che è questo della memoria locale nella scheda del Mudev che è quello del sistema museale e nel sistema museale deve avere praticamente diciamo la citazione del museo esattamente cioè attraverso la proprietà appunto dobbiamo trovare la proprietà corretta probabilmente sarà contiene non lo so dobbiamo dobbiamo raffrontarci ad un altro ad un altro item diciamo relativo ad un sistema museale consiste di ok grande come sempre Camillo e nella stessa alla stessa proprietà ovviamente non è cioè associo tutti gli elementi esistenti in Wikidata o che creo dentro Wikidata per appunto per la proprietà consiste di ok in questo caso appunto sto lavorando su quello che è contenuto no in Mudev ok faccio pubblica non mi da nessun tipo di violazione di vincolo però in generale insomma se 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 vado a specificare una fonte dove ho preso questa informazione è comunque sempre è comunque sempre buono consiste di ok abbiamo detto Mume Lock giusto? sì ok ad esempio avessi già un altro un altro dei musei che fanno parte del sistema museare basterebbe fare semplicemente aggiungi valore il nome del cioè l'etichetta o l'identificativo del penso del tipo museo del vetro a Empoli penso che che ci sia non ho verificato di Empoli mi vedo più di uno dovrebbe essere il secondo però vorrei verificare un attimo ora ti faccio un po' impazzire però era giusto per capire no figurati appunto è bello pure confrontarsi con cose che non che non fai normalmente MUVE si chiama museo del vetro di Empoli a Firenze sì sì è quello di cui stiamo parlando quindi il MUDEC quindi oltre a MUMELOC consiste di abbiamo detto museo museo del vetro del vetro di Empoli eccolo qua magari se vuoi perderci un po' di tempo appunto e hai dei riferimenti da aggiungere aggiungi quelli perché può essere utile diciamo ma in questo caso i riferimenti devo farmi riferimento al MUDEV senza dire alla pagina del per esempio MUMELOC all'interno del sito del MUDEV che è il sistema museale oppure dovrei inserire praticamente il sito del museo che è a sé stante allora diciamo il riferimento che tu inserisci è la fonte della tua affermazione quando si tratta di è indifferente quale dei due utilizzi specialmente se si tratta poi comunque di sito istituzionale e però in ogni caso tieni presente che nessuno ti vieda di inserirli tutti e due possibilmente quando inserisci un riferimento metti sempre la data di consultazione ok buona pratica diciamo perfetto grazie mille per ora prego scusate vorrei di nuovo fare una domanda sul rapporto non tanto sul rapporto Wikipedia e Wikidata come corrispondenza ma dunque in Wikidata essendo uno strumento potentissimo utilissimo di dati strutturati però non esiste nessuna attività diciamo di monitoraggio umana o diciamo tecnologica di macchina per fare alcuni controlli per esempio tu hai parlato di violazione di vincolo oppure io penso sempre questo controllo per esempio che ci siano molti i riferimenti nelle varie proprietà immesse quindi che controlli ci sono credo umani no ma però vorrei una conferma anche anche esistono anche dei controlli umani è interessante ecco prego non so se Camillo ce l'ha sotto mano però c'è un tool io diciamo principalmente utilizzo questo anche se abbastanza raramente perché non non è la mia attività preferita però utilizzo questo che mi dà uno stream diciamo di e dove poi posso andare anche a diciamo a come dire selezionare quello che voglio vedere così come in wikipedia ne esistono altri per monitorare ad esempio degli edit un altro modo più come dire impidico è mettere delle cose nella propria pagina degli osservati speciali in modo che ogni volta che vado su osservati speciali vedo quali sono le modifiche che sono state fatte diciamo sugli oggetti che osservo sugli elementi che osservo ce ne sono ce ne sono vari ci sono dei bot che vanno per esempio ad aggiungere o a sistemare delle informazioni per esempio quando c'è una discussione all'interno della comunità di wikidata e si decide che una cosa va espressa si decide anche qui per consenso così come wikipedia che una cosa va espressa in un modo piuttosto che in un altro di solito si crea un bot per modificare massivamente tutto quello che viene fatto il discorso della violazione dei vincoli è un discorso a parte nel senso che quei vincoli vengono stabiliti nel momento in cui io creo la proprietà cioè io gli amministratori o i creatori di proprietà creano la proprietà nessuno mi dice che non posso modificare quei vincoli se lo faccio in maniera costruttiva cioè posso ad esempio mettere delle eccezioni no ad esempio quando abbiamo creato la proprietà per per l'identificativo di share catalog inizialmente avevamo previsto allora ve lo faccio vedere quando abbiamo creato la proprietà cioè abbiamo fatto la proposta per la creazione di proprietà di share catalog l'abbiamo inizialmente collegata cioè l'abbiamo inizialmente specificata solo come un come un identificativo legato agli umani quando poi ci siamo interrogati diciamo su questa cosa abbiamo capito che non aveva senso non aggiungere anche le organizzazioni che erano tantissime dentro il catalogo per cui siamo andati a modificare i vincoli quindi le violazioni di vincolo non è non sono una cosa cioè di solito non sono degli errori a meno che non vengono fatti diciamo in maniera vandalistica non sono degli errori che si fanno perché diciamo c'è un'aggressione diciamo alla base di conoscenza ma semplicemente perché vanno a a non specificare chiaramente o a utilizzare dei termini che non sono esattamente quelli da utilizzare oppure mancano delle informazioni all'interno del database per esempio per quando io tratto un periodico quindi faccio un elemento relativo ad un periodico o arricchisco un elemento relativo ad un periodico se io metto un ssn se io metto gli ssn del periodico devo dire a Wikidata anche qual è la lingua del periodico qual è anche il titolo come stringa del periodico qual è il paese di origine vabbè è la proprietà che si usa però diciamo il paese in cui viene pubblicato quindi questi sono i vincoli diciamo rispetto alle proprietà almeno rispetto agli identificativi è una cosa che si non so se ho risposto alla domanda perché mi sono un po' no no benissimo ma al di là di tutto questo che è stato utilissimo avere precisato da voi ma invece sull'autorevolezza ma nel senso sulla pertinenza di una voce in Wikidata lì siamo liberissimi cioè allora ecco prego esiste esiste esistono dei criteri di rilevanza anche qui notability come notability inclusion criteria sì corretto esatto esistono vabbè vi faccio vedere quella in inglese perché quella in italiano insomma è un po' vecchia come traduzione esistono dei criteri esistono dei criteri che non sono neanche poi così diciamo laschi insomma nel senso per esempio diciamo aggiungendo le citazioni bibliografiche ad un elemento articolo scientifico dentro Wikidata mi sono sempre posto un problema spesso sempre più spesso fortunatamente quello che viene citato in un articolo scientifico non è più necessariamente solo un altro articolo scientifico ma ci sono tutta una serie di materiali nel 99 99% dei casi pubblicati sul web e spesso appaiono come pagine web una pagina web o non lo so un video di youtube che viene citato in un articolo perché ci sta come lo posso creare come elemento in Wikidata ci sono diverse discussioni al riguardo per il momento non mi pare che ci sia consenso Camillo penso che ne sappia più di me su questo però in questo aspetto non mi occupo così tanto ma istintivamente direi che no attualmente non mi pare enciclopedico esattamente quindi a quel punto io ho un problema di rilevanza nel momento in cui io creo un elemento riguardo a un video di youtube che poi viene citato in un articolo quindi significa che io nella proprietà cita di quel elemento non metterò cioè non avrò una parte non avrò un pezzo quindi così è vero Wikipedia è sicuramente è sicuramente molto più stringente su questo però bisogna pensare anche agli scopi cioè Wikipedia è un'enciclopedia di fondo e come dicevi giustamente su Wikidata c'è un po' più di libertà perché comunque ha uno scopo un po' diverso cioè quello di creare una grande knowledge base di un po' di tutta la conoscenza insomma però anche lì secondo me mettere un minimo di ed è capitato è capitato proprio fra l'altro con un utente diciamo della mia regione dove appunto che stava massimamente creando degli elementi relativi a dei post di Facebook e giustamente gli amministratori si sono un po' arrabbiati e l'hanno bloccato cioè lui di base non è che pensava di fare una cosa vandalistica però di fondo l'ha fatta perché se avesse discusso come spesso si fa in questa comunità della creazione di un elemento modellato in un certo modo probabilmente la discussione sarebbe stata un po' più pacifica invece ne ha creati 5.000 o 3.000 non ricordo ed è stato bloccato quindi sì comunque esiste un monitoraggio esiste perché fra l'altro la comunità di Wikidata che era molto inferiore come numeri a quella globalmente diciamo rispetto a quella di Wikipedia adesso è diventata molto più ampia quindi è possibile che ci siano delle persone che si interessano al patrolling diciamo quindi a tenerla sistemata insomma bene grazie è proprio questo che volevo sapere prego bene Claudio io direi che siamo andati un po' oltre il termine molti hanno lasciato quindi chiuderei qui la riunione ok cosa ne pensi va bene va benissimo allora ci salutiamo e casomai ci troveremo in altri laboratori come questo saluto a tutti grazie mille grazie mille grazie arrivederci grazie buona serata ciao buona serata grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille